Ragazzi, mancavano da un po' ed effettivamente era arrivato il momento sia di aprire un po' di scatole, quelle che vedete qui, ma soprattutto di parlarvi delle cose che sono arrivate qui nuove in studio, perché c'è un sacco di roba, altre cose le vedrete poi, ma c'è un sacco di roba, e voglio farvi vedere un po' la nuova attrezzatura. Quindi cominciamo, sigla e pacco. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale, un video come i vecchi tempi, di unboxing, chiacchieratevi, parliamo un po' di cose che sono arrivate qua, del perché le abbiamo scelte e quant'altro, magari trovate delle cose interessanti, vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link a tutto quanto, quindi lì c'è tutto, e cominciamo subito, perché c'è della roba che non so cosa sia, tra cui questo pacco letteralmente completamente nero, potrebbe essere anche la fine di questo video, perché potrebbe essere un pacco bomba, ma andiamo subito a vedere cosa c'è qui e chi ce lo manda, soprattutto perché è la cosa più anonima del pianeta, e anche quello più difficile del mondo. Va bene, andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Ok, uno stand per smartphone e un power bank per MagSafe. Entrabbi arrivano da Bensk, questa azienda che vi lascerò i link di Amazon in descrizione, apriamoli, sono molto curioso. Questo qua l'ho preso perché lo volevo sulla mia scrivania, per ricaricare sia le cuffie che l'iPhone, e soprattutto per averlo regolabile, perché odio non avere le cose regolabili, ne avevo uno vecchio, ma veramente era tremendo. Io al mattino arrivo appoggio l'iPhone sulla mia scrivania e almeno posso fare chiamate, eccetera, ma allo stesso tempo ricaricarlo. Oh, bello! Vedete, è regolabile. Proviamolo subito. Funzione. Posso regolarlo, ci posso mettere le cuffie qua, un signore. Si attacca, USB-C. E questo invece... Come così? Si accende qua sotto, penso. Si carica via USB-C. Funziona. Top. E vi danno anche dentro il magnetino adesivo. Se non avete il make safe, ma volete comunque usarlo, penso che lo mettiate dietro nella cover e lui si attacchi. Perfetto! Possiamo continuare. Ragazzi, gli altri pacchi che arrivano da Amazon. Si può. Cosa c'è qua dentro? Ma cosa ordino io ogni tanto? Non so. Ma cos'è? Ah! Spero che vadano bene, secondo me no. Però va bene, vediamo un po'. Sono i tappi da mettere qui nella scrivania. Infatti, non vanno bene. Apriamo l'altro pacco, va prima che mi incazzi. Madonna, questo è lo scatolone fabbricone dell'elettricista. Prolunga. Prolunga. Copri scarpe monouso per il set di venerdì. Cavo XLR da un metro. Cavo XLR da un metro. Cavo XLR da un metro. E... Veramente, ma... Voi immaginatevi il tizio di Amazon che fa questo pacco. Se vorrei conoscerlo. Un saluto. Qua dentro ci dovrebbe essere invece, ragazzi, l'ultimo pezzo di una nuova scrivania che stiamo realizzando. Dovrebbe essere un portacavi. Esatto. Il problema è che il portacavi che volevo non è venduto singolarmente. L'unico modo che hai è comprarne due. E quindi abbiamo due portacavi. Con però tutto quello che serve. Quindi è bello questo kit perché anche la guaina per infilarci dentro tutti i cavi, fare una roba ordinata, i cosi per avvitarli, tutti i passacavi, fatto così. Cioè, è veramente un bel kit. Ma è tutto doppio. Ci sono anche le fascette. Insomma, è un bel kit. L'abbiamo preso per un progetto che vedrete fra un po'. Quindi mettiamo via tutto questo schifo e passiamo alla parte succosa del video. Ok, come vi dicevo, abbiamo fatto degli acquisti per una nuova scrivania che vedrete molto presto. Qualcuno su Instagram l'ha già vista. Abbiamo preso, in realtà per il lavoro di Amazon Music, ma sapendo che avremmo dovuto investire in qualcosa di questo tipo molto presto, i Podmic di Rode, con tanto di spugnetta e asta regolabile e quant'altro. Queste cuffie dell'AKG, credo. Penso di sì. Ok, perché abbiamo coperto i marchi, ma devo dire che sono veramente fatte bene, costano niente e soprattutto sono un design nero molto sobrio, perfette per spendere poco e fare qualcosa di pulito. Qua davanti c'è dello scoccino che abbiamo usato per coprire i loghi. Si sente abbastanza bene, non sono regolabili, ma hanno questa parte qua regolabile. Insomma, se avete delle cuffie da poco più estetiche che di perfezione audio, loro sono un'ottima soluzione. E infine invece abbiamo comprato quello che penso che sia uno dei dispositivi più belli che io abbia mai avuto qui in studio, che è questo. Il Rodecaster Pro. È un mixer con molte funzioni digitali, permette di gestire l'audio in ingresso dal computer, splittare i segnali. È una figata, ma ve ne parlerò questo qui, di tutta questa roba qua, in un video dedicato molto tecnico, perché mi ha permesso di gestire una regia veramente interessante durante il lavoro di Amazon Music e voglio parlarvene perché secondo me si può fare una roba molto figa con meno di 1000€ senza troppi problemi e lui è il cuore pulsante a livello audio di tutto quanto. Tra l'altro qui dietro ci sono tanti convertitori jack 6.5, 3.5 per connettere le cuffie. Ma andiamo avanti. Questa roba qui, ragazzi, è uno spoiler troppo grosso, non ve lo meritate ancora. Ci vedremo presto con questa roba qua. Ah, e tra l'altro anche il motivo dei cavi XLR da un metro, ma ve ne parlerò poi. Ok, cercando di andare un po' più veloci, ci sono arrivati altri microfoni. Qua in studio arrivano sempre i microfoni wireless perché a volte ci trovano a fare dei setup da 6, 7, 8 microfoni contemporaneamente. Godox ci ha mandato il suo nuovo kit. Guardatelo qui, che bellino. Sembra uno di quei set dell'orologi. Eh, guardate qua, comprate gli orologi nuovi, sono bellissimi. Comunque, questo è veramente un bel kit. Sono sempre tre microfoni, quindi doppio setup, due trasmettitori, un ricevitore, USB-C. L'unica pecca è che qua dentro non potete metterci le pulce e quant'altro che vi arrivano comunque in confezione, ma non potete metterli. Devo dire che funzionano bene. Anzi, Matti ce lo dice. Matti funzionano bene, ci ha detto. E li ho già usati per un lavoro. Sono fighi, costano poco e appunto sono dual. Quindi perfetti per chi ha più interviste o cose del genere. Costruzione, devo dire, fatta bene per il costo che hanno, super approvati. Ok, però Godox è famosa per le luci e ci ha mandato da provare una piccola chicca. L'ho già usato per il lavoro di Amazon Music e devo dire che mi sono trovato davvero molto bene. È un super pannello LED. Non è che ci sono altri modi per descriverlo. È gigantesco, veramente enorme. Qui c'è il suo softbox con nido d'ape al suo interno. E qui c'è il pannello LED, che è l'LD150RS. È un pannello full RGB, un pochino grande. Eccoci qua. Anzi, non è full RGB. Full color. Matti, importante, eh? Bellissimo. Qua c'è tutta la sua alimentazione. Insomma, è veramente un bel pannello. Ha le connessioni di MX, fa una miriade di luce. L'abbiamo utilizzato come key light per un lavoro e devo dire che fa il suo. Nulla di più, niente di meno. Soprattutto la cosa figa è che dietro pesa una roba allucinante. Dietro ha già la cosa per la V-Lock, quindi potete anche portarvelo in giro. E soprattutto ha tutto questo sistema per farvi i vostri presets, girare all'interno dei menu fatti decisamente molto bene. Devo dire che non è un'alternativa agli Sky Panel. Non è un'alternativa a molte altre cose, ma è un buon pannello LED sotto i 1000€ per avere veramente tanta luce. A mio avviso, super consigliato per chi vuole spendere poco, ma vuole avere questo tipo di efficienza. Non penso che in commercio ci sia qualcosa di così economico con questa potenza di luce. Se parliamo di qualità della luce è un altro discorso, ma con questa potenza, questo penso sia la soluzione più economica al momento. Ok. Ora devo farvi vedere un po' di robe assurde che sono arrivate qui, ma che hanno il loro senso. Vi spiego. Prima di tutti abbiamo comprato una nuova macchina del fumo, perché quella che avevamo costava pochissimo, è perfetta per iniziare, ma quando devi riempire un posto come questo studio, diventa un po' difficile. Questa macchina del fumo semplicemente non fa niente se non sparare il fumo e spararne di più, più potente, per più tempo. The end. Unico motivo per cui l'abbiamo comprata. È una macchina del fumo da 1200W, si riempie come sempre da qua sopra, si possono comprare vari tipi di fumo, quello che fa la nebbia, quello che fa il fumo normale, insomma. Super utile per quanto ci riguarda, a noi piace. Noi facciamo tanti shooting, soprattutto con Emanuele, usiamo il fumo per far vedere i fasci, le cose, eccetera, eccetera. Insomma, a mio avviso una macchina del fumo ci vuole sempre. Non si sa mai, magari hai fatto una festa, ce la buttate in mezzo, male non fa. Sempre acquisti pazzi. Palline da tennis, ragazzi. Voi direte, ma Simone, cosa te ne fai delle palline da tennis? Sembra un acquisto stupido, ma in realtà, andando sempre qui in location fighe, abbiamo bisogno di proteggere i nostri stativi. Metterlo su ruote costa troppo, 70 euro a kit di ruote, mi sembra un po' eccessivo, soprattutto se serve solamente per non far appoggiare gli stativi per terra. Le palline da tennis sono la soluzione migliore. Le tagliate qui, le infilate nel piedino dello stativo e siete a posto. Insomma, soluzione, massima resa, non spreco di soldi e, boh, così ci sono delle palline da tennis. Stiamo migliorando con le luci e Aputure, ormai i nostri fratelli Aputure, ci hanno mandato due 300D. Uno ci sta illuminando ora, questa è la versione Mark II, ragazzi, e semplicemente non posso dire niente di queste luci, se non perfette. Eccole qui, sono queste sberle qua, innesto Bowens, effetti monocolor da 5600, con il loro gigantesco ballast che supporta ovviamente le V-Lock. Vi arriva tutta questa confezione meravigliosa, sono delle luci costose, ma ormai con Aputure stiamo veramente trovando la soluzione definitiva a tutto quello che cerchiamo. Cioè, delle luci costruite da paura, tra l'altro queste qua reggono anche schizzi, potete metterle potenzialmente sotto la pioggia, quasi, non hanno alcun tipo di problema. Sono costruite benissimo, sono completamente in metallo. Insomma, tra Amaran e Aputure, come avete visto nell'ultimo periodo, stiamo completamente switchando tutto il kit luci e loro ci stanno supportando in questa transizione. Sia dal punto di vista del supporto tecnico per i nostri video su YouTube, sia dal fatto che stiamo comprando della roba parecchio golosa. E vi faccio vedere fra un po' la chicca nuova arrivata in studio. Vadoci qua. Allora, avevamo già la versione piccolina, che avevamo già fatto vedere in altri video, soprattutto in quello che trovate qui sopra, dove vi aveva fatto vedere il nostro setup luci perfetto per YouTube. Ma abbiamo deciso di fare un upgrade, perché quello là era proprietario dell'altro faretto di Aputure sempre, mentre questo è perfetto per tutti gli Nasty Bowers. Noi avevamo la versione sfigata, comprata tempo fa. Questa è la versione figa. Lo spotlight mount di Aputure. Eccolo qui. Ragazzi, è semplicemente un obiettivo per le vostre luci, con all'interno un fresnel, con all'interno tutte le varie... Hanno un nome particolare questi cosi? Se ne frega. Sagomatori per tagliare la luce, verla come volete, dalla forma che volete, le tapparelle, i fiori, gli alberi e quant'altro. Qui si monta la vostra luce, tra l'altro tutto in metallo, pesa una madonna. Collegate il vostro Linnesto Bowers e semplicemente lui fa il resto. Tra l'altro lente che si può sostituire, qua avete una lente da 26 gradi ma c'è anche da 19 e da 36 se non sbaglio. Ed è semplicemente tutto quello che volevamo per fare dei fasci di luce o simulare la luce in un certo modo, che non si può fare altrimenti. Semplicemente o con questo oppure con delle sagome messe davanti alle luci. Ma questo è tutto portatile, molto più bello esteticamente e soprattutto, cosa non da poco, è molto più comodo sia da trasportare che da utilizzare. La valigetta è bellissima, semplicemente perfetta, mi piace un sacco e soprattutto è rigida, a differenza delle altre di Aputor, proprio per proteggere il fatto che lui all'interno ha una lente. Altra cosa che da bravo elettricista o di OP, chiamatemi come volete, ho comprato, sono state delle gelatine colorate, un po' più resistenti rispetto a quelle che si trovano su Amazon. Queste le ho preso su Toman, però non ancora definitive. Non riesco a trovare gelatine per i par o quelle che effettivamente resistono a più di 800 watt di potenza delle luci. Se qualcuno le conosce, per favore me le consigli, mi mandi un link dove acquistarle perché ne ho bisogno. Però queste devo dire che resistono già abbastanza alla temperatura e mi reggono davanti allo spotlight, che è la cosa che più mi interessava. Quindi ce ne sono 12 colore, adesso sta arrivando un altro kit con delle altre gelatine. Tuttavia, purtroppo, ogni tanto anche loro si piegheggiano, però va bene lo stesso. Ultimo acquisto sempre fatto su Toman, che ormai sta diventando veramente un gran servizio da cui acquistare l'attrezzatura. E questa cosa qua, che è il black foil, riassumibile in carta d'alluminio, semplicemente scura. Si può modellare, come vedete, prende anche le pieghe che gli date, quindi potete costruire delle finte bandiere, potete sagomare la luce, potete creare delle cose particolari. Si usa tantissimo. Io volevo provarlo, volevo testarlo per averlo sempre dietro quando devo fare delle robe, una bandiera al volo e quant'altro. E' molto figo, si compra in questi rotoloni, ve lo portate dietro, quando dovete sagomare, bandierare, fare, può tornare super utile. Vi prego ragazzi, trovatemi delle gelatine fatte bene, io non ce la faccio più con queste robe qua. Non riesco a trovare delle soluzioni e non senza comprare quei rotoli da 300 metri di gelatine, quindi qui non me ne faccio niente. Ultima roba, poi vi faccio vedere la pazzia, la follia, la stupidità, dove è arrivata. Ma vi faccio vedere, abbiamo comprato, eccola qua, una bandiera, uno scream, un rettangolo di metallo che tiene, questo non è un pannello rifattente ma serve per diffondere la luce, ma anche questa 5 in 1 con la parte dorata, la parte argentata, quella nera se lo volete usare come una bandiera, insomma è utile. Costa un pochino perché 90 euro per questo pezzo di alluminio è un po' eccessivo, però qua sotto ha il coso per attaccarlo al fustone. Dalla regia mi suggeriscono che l'attacco alla cipolla. Scusate. Per quanto mi riguarda è molto utile per creare tipo dei finti piccoli softbox, diffondere la luce, tagliarla, insomma le solite cose ragazzi, questa luce bisogna controllarla in qualche modo e per controllarla servono delle cose. Questa è una di queste cose. Ok, sempre il reparto luci, giuro che siamo quasi arrivati alla fine, arrivano solo delle luci qua in studio. Ci è arrivato questo di Ambitful, sembra una luce sfigata e ammetto che dall'estetica non prende grandi punti, soprattutto dalla costruzione, qui dietro in tutta la plastica eccetera, ma ha una particolarità, una di quelle cose che purtroppo nelle grandi marche si vede poco e in questa roba qua può tornare parecchio utile. Sono rimasto piacevolmente sorpreso quando me l'hanno mandato, perché non solo è una classica luce con il Bowels eccetera eccetera, ma soprattutto è bicolor innanzitutto, quindi caldo, freddo, come le solite luci, ma è RGB. Guardate qua. Bellissimo. Io sono super contento di questa roba, soprattutto perché è perfetta per fare dei piccoli controluce o per illuminare qualcosa. Non fa molta luce, ammetto che ecco non è la luce più potente dell'universo sicuramente, però alla fine se dovete fare qualcosa di un certo tipo e volete farlo con qualcosa di RGB può tornare utile. Non è male? È perfetta per fare o dei contro per riempire delle scene. Secondo me un pensierino ce lo farei. È una potenza da 60, quindi non è incredibilmente devastante, però può essere quell'alternativa per chi deve comprare magari la seconda luce e al posto di comprare la solita luce classica, il Godox SL60, un Amaran 100D, insomma le solite luce che vi consiglio, questa può essere una soluzione alternativa. Certo, la qualità della luce non è incredibile sicuramente, però potrebbe essere da considerare. Costa poco, anche qui, innesto Bowens un po'... Costa poco, innesto Bowens un pochino rigido, ma comunque fa quello che deve fare e basta, insomma, ve la consiglio. E adesso vi faccio vedere l'ultima cosa che abbiamo comprato qui in studio. È arrivato da un po' di tempo, non abbiamo ancora nemmeno avuto modo di usarla bene, perché non c'è tempo, perché qui dentro stanno cambiando tantissime cose, ma guardate qui. Esatto. Abbiamo comprato il GB1 di Edelkron con tutti i suoi vari accessori. È una follia, nel senso che è uno strumento ipercomplesso, difficilissimo da programmare, difficilissimo da collegare, molto complesso da usare, ma riteniamo possa dare un tocco in più ai nostri video. Avete già visto qualcosa sul canale di Emanuele, che abbiamo sperimentato? C'è ancora molto da imparare per renderlo perfettamente utilizzabile? Arriverà il momento di farlo, non è questo il giorno sicuramente, ma ve ne parlerò, promesso, perché è il motion control definitivo per quanto mi riguarda. Se no poi si comincia a comprare la roba veramente hardcore, ma parliamo di 30-40K. Questo qui, nel range dei 2000€, si può creare qualcosa di interessante. Sto guardando una miriade di video, sto studiando una miriade di cose, non sono ancora riuscito a utilizzarlo come vorrei, ma è qui e voglio sperimentarci. Quindi se qualcuno ha dei consigli, ce l'ha e vuole consigliarmi qualcosa, ben venga. Spero di potervene parlare molto presto, perché secondo me è super curioso. Semplicemente non è così intuitivo come vi fanno vedere dai video. Ecco, diciamo che bisogna trovare un buon equilibrio fra quello che vuoi fare, quello che può fare e quello che effettivamente riesci a costruire quando lo programmi. Detto questo, ve ne parlerò poi, promesso, perché sapete che queste cose mi fanno impazzire. Non è solo il momento giusto per farlo, ma poi capirete il perché. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Spero che abbiate trovato delle cose interessanti. Come sempre, queste unboxing sono delle belle chiacchierate dove vi facciamo vedere cose. Poi a poco a poco delle singole parti usciranno, magari video dedicato, magari delle compilation di cose in cui sono utilizzati. Vi chiedo però, nei commenti, di scrivermi che cosa vorreste vedere effettivamente qui sul canale per quanto riguarda gli oggetti che avete visto oggi. Una recensione dedicata, un video setup, una roba. Insomma, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale per non perdervi nessun video, soprattutto quelli belli e non questi. Niente, detto questo, noi ci vediamo, come sempre, ogni giovedì alle 13.30 con un nuovo video. A breve torneranno delle cose. E basta, iscrivetevi e a presto. Ciao.